Ci sono state delle novità anche dell'ultimo momento rispetto a scenari che prima non erano prefigurabili, anche in rapporto con ovviamente terzi, per cui metteremo a disposizione dei consiglieri comunali in primis e poi di tutta la città con dei momenti pubblici di condivisione e di partecipazione quali possibilità ci sono rispetto a quelle previste polo museale o eventualmente le alternative. Teatro a Bassano diverse le possibilità che riguarderebbero proprio il finanziamento della Fondazione Cari Verona che non escluderebbe l'ipotesi teatro all'ex caserma Cimberle Ferrari. Recentemente abbiamo ottenuto dopo una serie di interlocuzioni anche la possibilità di poter ragionare al di fuori e questa possibilità si sta concretizzando in questi giorni, non è ancora cosa certa evidentemente. Da questo punto di vista l'orientamento della maggioranza è che se non si proseguirà con il polo museale la grande richiesta della città è di una sala culturale polivalente in cui si possa fare con un numero di posti importante, ragioniamo almeno su 800 posti, rappresentazioni teatrali, concerti, convegni. Entro il 30 di novembre bisogna prendere una scelta definitiva. In ogni caso restano tra le opzioni più plausibili acquisizione e recupero dell'astra, della sala da ponte o realizzazione di nuovo teatro al posto del polo museale cui si aggiunge l'idea di realizzarlo al parcheggio le piazze dietro l'ex ospedale. Delle ipotesi di piani finanziari molto diversi tra loro per cui alla fine anche il fronte di quali risorse disponibili ci sono e quali invece no dovrà essere evidentemente un criterio di rimente. E proprio quest'ipotesi del parcheggio le piazze potrebbe essere l'idea migliore per il nuovo teatro di Vassano.